Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo, non vi spiego come risolvere così l'errore riguardo al name file mancante nel nostro registro di sistema quindi in questo caso se te lo ritrovi su un gioco di Electronic Arts o Origin è possibile che te lo ritrovi di più su Origin perché su Electronic Arts non ho mai scontrato questo problema quindi è possibile risolvere il problema disinstallando l'applicazione Origin insieme al tuo gioco, ai tuoi giochi e passando direttamente all'applicazione Electronic Arts, ovviamente stai tranquillo che l'account è lo stesso quindi è tuo stesso account che hai creato su Origin basta che fai l'accesso su EA quindi in questo caso chiudo un attimo Electronic Arts, faccio esci, una volta fatto vado direttamente su Esegui scrivo qua, esegui per cento, app data, per cento, scrivi così, a per cento, app data, per cento, fai ok vai su app data, local, scendiamo fino a giù fino a trovare così l'applicazione EA eccola qua EA Desktop cancelliamo EA Desktop, EA Launch Helper, Electronic Arts quindi come primo metodo ti consiglio di risolvere il problema riguardo a disinstallare Origin e il gioco per installare così la nuova applicazione Electronic Arts, quindi da Origin passeremo a Electronic Arts, questa qua ti ho lasciato il link in descrizione, quindi scarica così il programma questo qua è il link, downloads alla fine, Windows e scarica così il setup ed eccolo qua tasto destro sopra e segui come amministratore e app è già installata, quindi in questo caso io vado direttamente a fare una riparazione ora fermiamoci qua, l'account che tu hai creato per la prima volta su Origin è lo stesso account tanto è la stessa società, quindi hanno solamente app diverse, però è la stessa società, quindi accetti con il tuo account EA, quindi è lo stesso account email e password che hai creato su Origin sia online che sull'applicazione, quindi faccio direttamente accedi al tuo account EA ed ecco così, l'applicazione EA Launch, se non dovesse funzionare andiamo direttamente sul nostro EA quindi in questo caso vai direttamente su Electronic Arts, questo qua, il sito che ti ho lasciato in descrizione andiamo così a fare l'accesso al nostro account, impostazioni account vado su sicurezza, scendo fino a giù fino a trovare così il nome dispositivo ed eccoli qua io adesso voglio disconnettermi dal dispositivo, quindi lo faccio su tutte e tre prima di farlo chiudo Electronic Arts, faccio esci stai per rimuovere il tuo dispositivo, attendibile la prossima volta che eseguirai l'accesso da questo dispositivo ti verrai chiesto di inserire il codice di verifica non attendibile tolgo tutte e tre chiudo questa pagina vado di nuovo su EA una volta disconnesso così dall'account riguardo al nostro computer, quindi sui nostri dispositivi è possibile rifare di nuovo l'accesso sempre con il tuo account se non dovesse funzionare è possibile che l'antivirus ti blocchi così la cartella del tuo gioco quindi andiamo direttamente sulla sicurezza di Windows questo qua sicurezza di Windows ci clicchiamo sopra andiamo su protezione da virus e minacce andiamo su gestisci impostazioni aggiungi o rimuovi esclusioni ed eccolo qua quindi aggiungi un'esclusione qui andiamo così ad aggiungere una cartella di un gioco ovviamente non ottengo niente di installato di Electronic Arts quindi vado direttamente per farti un esempio vado così a prendere una cartella qualsiasi tipo Star Wars e faccio selezionare la cartella e seleziono così la cartella del gioco che ho installato su Electronic Arts così facendo l'antivirus non mi blocca quella cartella non mi blocca neanche l'accesso e non mi farà neanche uscire quell'errore ed eccolo qua quindi spero tanto che in questi tre metodi sei riuscito poi a risolvere il tuo errore se hai altri problemi ancora puoi sempre commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide a riguardo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao